Aziende sanitarie è un bivio, o il disavanzo in bilancio, che prima o poi qualcuno dovrà pagare in attesa di tempi migliori, o il taglio delle prestazioni sanitarie, soluzione estrema al problema del caro energia che ha investito anche la sanità con costi da capogiro. Rispetto all'anno scorso, le circa 200 aziende sanitarie italiane hanno subito infatti un incremento del 70% dei costi delle bollette, passando da 1 miliardo e 400 milioni di euro del 2021 a 2 miliardi e 300 milioni del 2022. E' per questo che la Fiaso, Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere, lancia un appello al governo perché si faccia carico di almeno un miliardo di costi divenuti insostenibili per aziende altamente energivore come gli ospedali, dove ben poco può essere spento per limitare le bollette. Nella Asle di Lanciano, Vasto Chieti, l'incremento dei costi dal 2021 è stato di 23 milioni di euro per una stima totale di 40 milioni nel 2022, tra i vari plessi ospedalieri e i distretti sanitari dell'intera provincia. E il piano di contenimento della spesa energetica dell'azienda sanitaria locale, attraverso le buone pratiche messe in campo, rischia di non essere sufficiente a chiudere in pari il bilancio, come spiega Thomas Schell, direttore generale della Asle di Lanciano, Vasto Chieti e membro della Fiaso. Siamo nel reparto di radioterapia del Policlinico Santissima Annunziata di Chieti e quello che la telecamera di Diego Martelli sta inquadrando in questo momento è uno degli apparecchi più energivori dell'ospedale, uno dei due acceleratori lineari che serve per la radioterapia. Non sono macchinari che si possono spegnere. Tutti questi macchinari, come la radioterapia, le risonanze, TAC, la medicina nucleare, la PET-TAC e così via, non si possono spegnere perché si rischia che non ripattono. Lo stesso vale per le rianimazioni, vale per il reparto di geriatria, per la neonatologia e così via. Per cui noi siamo arrivati a 40 milioni di consumo di energia, sono 23 milioni più dell'anno scorso, che è in linea con quel aumento di più di un miliardo a livello nazionale. Il governo ci ha già aiutato dopo un primo appello della Fiaso, di cui anche io come direttore faccio parte, 400 milioni, perché all'inizio dell'anno si pensava che potesse bastare. Chiaramente come associazione ci rivolgiamo al governo in questo momento di ripianare questo disavanzo. Avremo bisogno di una risposta entro fin'anno, perché capire che fa con il disavanzo 2022 e poi se non c'è una promessa come per Covid di ripianare i debiti, dovremo fare delle scelte per bilancio 2023. Ci sono delle buone azioni che però l'Asl ha pensato anche di mettere in campo? Stiamo sostituendo 10 mila coppie illuminanti, stiamo riducendo la superficie che stiamo usando e stiamo installando pannelli solari, per cui questo aumento dei 23 milioni noi pensiamo di recuperare al massimo 2 milioni alla fine del 2023. Se il governo non dovesse darvi delle risposte? Siamo a un bivio. Se non troviamo un modo di rifinanziare le aziende sanitarie, dovremmo non assumere, non investire o se proprio va oltre, anche ridurre l'assistenza che al momento stiamo garantendo.